Ciao a tutti cari amici e fans di Riccardo Foy e del mio gruppo, questo è un cd doppio di Riccardo Foy di stampa russa che io ho preso nel 2015, questo doppio cd di grandi successi proveniva dagli Stati Uniti e la qualità del suono è eccellente, come potete vedere è un cd che ha un bellissimo colore e grandissimi titoli, vi faccio vedere il cd all'interno, i cd all'interno, guardate che bello sfondo che ha questo centrino e anche l'altro, guardate, ammirate, ammirate cari fans, ammirate. Questo è bellissimo, ve lo straconsiglio, lo potete trovare su ebay oppure su amazon, mi raccomando compratelo, Riccardo Foy di greatest hits doppio stampa russa, questo è il lato, compratelo, mi raccomando.